di Milano Rogoredo oh no Luigi sto lottando che è la forma canonica di Smith? io ho detto che sto lottando che è la forma canonica di Smith? e basta tu sai cos'è la forma canonica di Smith? tu lo sai che sto lottando? tu lo sai che sono nudo? eh no mi fai vedere il pisello? ah finissimo finalmente ho giocato basculito in femmina purtroppo l'avversario aveva una mossa offensiva ah quei 120 HP sembrano proprio inutili muore in due secondi ah perché a 75 HPF pensa qua non ha overcoat i 23 sui vero? no c'ha cosa? c'ha quella che protegge dai brutti colpi? avrebbe avuto Subseeper tuttavia non glielo dà forse ha overcoat no no c'è l'armor gui ah si c'è l'armor gui e cosa? e Subseeper vero 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 gui a me sembra abbastanza fair porco del dio così è meno pericoloso di prima in generale ora non più beh ora è ugualmente vieto fine guarda questa play immunità shadow ball ah non ha tirato shadow ball oppure non più resistenza tolson era l'altra faccia della medaglia c'era da fare una scelta allora lo sapevo che il mio gutro doveva avere idlopomp non poteva non avere idlopomp easy easy no ho comprato un quaderno con i quadroni grandi come i bambini come ho fatto a non guardarlo ogni bambino come i bambini no i quadroni 5 non i quadroni 4 5 mm vabbè mi ci dovrò abituare comunque hai notato che si chiama Poblano no l'ho notato ora come si batte Poblano con fulmine che lo faceva più ridere se avessi preso i quadernoni per bambini i quadernoni per bambini belli e porco dio però come gooder animation dall'altra prospettiva ha un'animazione magari non ha il backspite ma il frontspite e porco del dio però no basta non si dice cose che non si dicono e basta arrivare al blessing nudo e beh stemmi e non si dicono beh il team è tornato in vita tuttavia ma il tuo è quello dell'avversario quello dell'avversario beh deve aver messo revival blessing con uno dei pokemon nuovi introdotti beh mi guardano i commenti che nessuno dei pokemon dio un revival blessing ahhh cazzo è vero però l'avversario va anche a real ace su dragonite così non è obbligato a terra cristallizzarlo a volante geniale e tira acqua a scala e dirgi dopo che risuscita una volta che va a capo il pokemon perde la terra ok ovviamente l'avversario è un po' più terapista ma non può più molto bene e come cazzo faccio qui? ha funzione eh magari eeeh beh scrivo scrivo bene come riesco non che palle luigi luigi sei pronto a usare psychic terra inefficacemente? si tantissimo c'è solo un pokemon nuovo però va bene tanto è c'è di di psicoport nessuno cali no non è per caso weirdier no snizzler con un bardo pensate pensavo ci avessi mettito qualcosa tipo azelf per spammare mostri psicopotenti ma non l'ho messo eh dai ho detto che azelf lo puoi anche mettere però ma cosa succede se si rise edge va su un magic bounce scopriamolo che cos'è no è una mossa d'attacco quindi parte beh ha tirato razor scegli in ogni caso quindi non lo sapremo mai posso provare a vincere non è che serve a non saperlo magic bounce dice che rispedisce al mittente le mosse di stato e si dice non è una mosse di stato oi tu basta ho appena realizzato una cosa crosshair potrebbe essere unaware potrebbe e non è che me la sia giocata proprio non vedo la slip partire ma per dirti non ti possono neanche fare taunt sul seed slash edge ok luigi ho già giocato di merda quindi ora provo a recuperare come posso e lo stessa cosa valeva per cooperagia con la gigamax la scorsa sinceramente non ho molti memorati di cooperagia o lei ha anche giocato diverse volte diverse volte non è che sia durata tanto la dynamax e namoros che mosse volantia e il slash sicuro perché ce l'hanno tutti i cam tifone non ne ho idea non è vero che ce l'hanno tutti i cam per zesce sì no tanderas non ce l'hanno tutti gli altri in realtà non so se l'hanno lo sbaglio questo farebbe sì che ce l'ha solamente tornato sulla fine cosa? eh no non so cosa? la che palle Gesù Cristo sulla croce tutti giocano sto calmando terra water denoto enamoros perché è molto forte il calmando terra water porco dio anche il porco dio è molto forte quando si scopa a sua madre si possono sovrapporre due ilinguish no si ma l'esce no non è vero che fallisce il secondo però sì beh lo scopriamo subito cosa è successo? dobbiamo vedere cosa è successo? non si sa ancora non si sa ancora non si può rientrare lo farò quando ne avrà bisogno lui fa questa play porco dio e porca la madonna e porci anche i santi no 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 ho detto basta con queste bestemmia non si bestemmia dico io ma io non bestemmio mia mamma dice le parolacce contro Gesù non va bene effetti ma ma secondo me non lei ma ma Non scopriremo mai in realtà se E-Linguish è stuck. Hai usato E-Linguish? Comunque tipo U-Tour? Sì. Ma perché cos'ha l'Eino Fuga? O il cazzo che è? Carta in rosso? No, ho alterato due E-Linguish diverse. Cioè, ho U-Tournato perché sono morto. Ma non ho capito la situazione. No, 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 ho detto che la situazione è legale signor agente.